Questa è la città di Torino, la capitale industriale dell'Italia. Torino è stata la prima capitale d'Italia, dal 1861 al 1864. A Torino è sorta la prima industria automobilistica. Qui furono prodotti i primi film italiani e già dal 1949 furono condotte le prime trasmissioni televisive sperimentali. A casual stroll through a garden, a kiss by a lazy lagoon, catching a breath of moonlight, humming a favorite tune. This is a lovely way to spend an evening. I want to save all my nights and spend them with you. A casual stroll through a garden, a kiss by a lazy lagoon, catching a breath of moonlight, humming a favorite tune. This is a lovely way to spend an evening. I want to save all my nights and spend them with you. Aachen 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 Grazie a tutti.